Credo che questo sia un fatto importante, guardare avanti, darsi delle sfide, sapere anche sognare, in fondo il mestiere dell'imprenditore, la cosa più bella di un imprenditore, non solo di Enzo Ferrari ma di tutti gli imprenditori, è di trasformare un sogno, un'idea in una realtà. Enzo Ferrari sognava quello che ha fatto, ci è riuscito. Oggi dobbiamo riprendere, cari ragazzi, il gusto di darci delle sfide, di sognare, di guardare avanti, di mettercela tutta.